buongiorno a tutti lezione numero 39 oggi continuiamo il modulo di grafi e in particolare ci preoccupiamo di come implementarli quindi come rappresentarli nella memoria del calcolatore e discuteremo alcuni algoritmi di base come le visite cosa che abbiamo fatto per gli alberi e se ci riusciamo parleremo anche di cammini di cammini intanto ho citato gli alberi e rimaneva ieri sono un'ultima proprietà dei grafi da enunciare perché abbiamo fatto la lista della spesa con una serie di definizioni e una proprietà che non ci sorprende più di tanto è che gli alberi grafi sono imparentati nel senso che ora senza discutere tutte queste proprietà che sono equivalenti quindi ogni una di queste affermazioni equivale ad una delle altre ciascuna delle altre ma in particolare a noi ci interessa il succo di questo discorso ovvero che un albero è un grafo particolare cioè un grafo che non ha cicli connesso sì ma in realtà come vedremo tutti i grafi che consideriamo in questo corso sono grafi connessi se non lo fossero significherebbe che anziché avere un grafo potremmo dividerlo in più sotto sotto parti che a loro volta sono i grafi connessi quindi comunque un grafo se non è connesso può essere diviso in grafi connessi quindi alla fine sempre di grafi connessi parliamo quindi la parola chiave davvero importante che un albero è un grafo aciclico ovvero un grafo in cui non ci sono cicli e in effetti se pensate alla gerarchia di un albero binario comunque di un albero diario quello che è è una gerarchia molto stretta che non ci consente di ritornare nei nei nodi precedenti quando facciamo le visite è vero sì possiamo sempre inserire un puntatore al padre ma quelli sono dei dei trucchi computazionali ma la struttura dati dell'albero la struttura albero non è concepita non è una struttura con degli ac che ritornano magari due livelli più su o che connettono i fratelli tra di loro eccetera quindi un albero è un grafo però è un grafo senza cicli quello che vediamo in figura è un albero quinario che però è stato visualizzato in un modo diverso perché quando noi visualizziamo i grafi non c'è una unica visualizzazione cioè uno può mettere i nodi in qualunque punto del piano e connetterli con degli archi che sono più o meno lunghi ma viene non è quello che fa la differenza un grafo è un modello astratto qui non è tanto la posizione dei nodi o quanto sono lunghi gli archi ma è quali nodi sono connessi a quali altri nodi attraverso quali archi quindi più una questione di quali che di dove si trovano i nodi ecco quello che vediamo in figura è un albero quinario che però è visualizzato in un modo diverso dal solito cioè anziché avere una radice con cinque figli e poi ogni figlio altri cinque figli con una struttura diciamo piramidale ad albero qui la radice è stata messa al centro del piano e i figli tutto attorno e per ciascun figlio poi ci sono in questo caso ha soltanto un altro figlio è un albero quinario non è detto che abbia per forza ogni nodo cinque figli al più cinque figli e quest'altro nodo ne ha quattro per esempio quindi va beh questo è un albero che è stato però visualizzato diciamo con lo stile di un grafo perché non c'è questa struttura piramidale ma in realtà è la stessa cosa potrei comunque ridisporre qui gli archi e di nodi per formare una struttura piramidale questo giusto per far capire che gli alberi si possono considerare come dei grafi qual è il vantaggio beh il vantaggio che quando noi lo vedremo quando noi adesso faremo le visite dei grafi la visita dei grafi corrisponde a visitare un nodo una sola volta e quindi se ci ricordiamo la definizione di ciclo un ciclo è un cammino che passa da un nodo più di una volta quindi se noi visitiamo un grafo e ogni nodo lo visitiamo solo una volta al più no a più esattamente una volta allora l'ordine dei nodi della visita genera un albero perché un albero appunto è un grafo dove non ci sono cicli quindi comunque possiamo immaginare che dentro un grafo vivono degli alberi gli alberi che corrispondono alle visite che corrispondono ai cammini minimi infatti parleremo un giorno di albero dei cammini minimi quindi comunque diciamo che il grafo è una generalizzazione è una cosa più generale dell'albero l'albero è un caso particolare cioè un grafo senza ciclo va bene ecco questo chiudeva le proprietà dei grafi e adesso passiamo alla parte diciamo computazionale la parte che abbiamo fatto è di definizioni diciamo matematiche perché tra l'altro la teoria dei grafi è una teoria è una branca della matematica si studia nei corsi di matematica e anche nei corsi di informatica perché noi comunque siamo un po imparentati con i matematici per quanto riguarda la logica gli algoritmi e anche la teoria dei grafi allora quindi il problema è un po come per gli alberi sì ok il modello è quello astratto ma io come lo implemento nel calcolatore cioè che strutture dati utilizzo nel mio calcolatore per modellare bravo ci sono varie possibilità e ce ne sono uno due tre quattro cinque e anche altre queste sono le principali modi di memorizzare un grafo dentro il calcolatore perché ce ne sono così tanti qual è il problema il problema che ciascuna di queste strutture ciascuna di queste soluzioni sono delle soluzioni per memorizzare il grafo dentro il calcolatore dovrà fare i conti con la complessità computazionale che significa dovrà fare i conti con la complessità sicuramente spaziale cioè quanta ram quanta memoria occupiamo per il grafo con questa soluzione e vabbè la ram diciamo che ce n'abbiamo tanto anche se se stiamo in un sensore con un micro controllore di ram ma ne potremmo avere che ne so 500 chilo chilobyte quindi dobbiamo anche in quel caso fare attenzione e la teoria dei grafi si usa certo e come nelle reti di sensori quindi programmazione distribuita sono cose che sono importanti in quel caso però vabbè ognuno avrà ogni ogni soluzione avrà la sua occupazione spaziale però dovrà fare conti questa soluzione come tutte le altre con la complessità temporale cioè il tempo di esecuzione asintotico rispetto al numero di nodi n il numero di archi m quindi una complessità che dipende da n e da m se dipende solo da m significa che da n non ci dipende in generale può dipendere da n e da m delle operazioni la complessità delle operazioni fondamentali di un grafo così come un albero ha operazioni di tipo inserisci ricerca l'albero di ricerca elimina abbiamo fatto l'eliminazione dall'albero ricordate che era un po complessa così il grafo ha le sue operazioni le operazioni principali di un grafo sono quelle che serviranno agli algoritmi che fanno elaborazioni sui grafi quegli algoritmi richiameranno al loro interno queste operazioni magari non tutte solo alcune pertanto è importante calcolare fin da ora le complessità computazionali di queste operazioni e quindi dobbiamo discuterle una una il grado significa dato un nodo qual è il grado cioè quali sono gli archi uscenti da quel da quel nodo gli archi incidenti quali sono gli archi che incidono su quel nodo sia uscenti sia entranti queste sono distinzioni tra grafi orientati non orientati se il grafo è non orientato queste due cose corrispondono sono adiacenti x e y cioè dati due nodi essi sono o non sono adiacenti cioè vicini ovvero c'è un arco che li connette aggiungi vertice banalmente aggiungere un vertice al grafo aggiungere un arco al grafo rimuovere un vertice al grafo e rimuovere un arco al grafo quindi questi sono i classici metodi di aggiungi e di eliminazione e questi sono invece dei metodi che questo testa una proprietà di due vertici e questo ottiene la lista degli archi che incidono su un su un vertice mentre questo non è un ottiene la lista vuole solo sapere il grado quindi quanti sono gli archi che che escono se è il caso del grafo orientato se è il caso del grafo non orientato quali quanti sono gli archi incidenti su quel vertice ok quindi discutiamo una per una adesso le soluzioni implementative quindi ripeto quello che stiamo vedendo non è teoria e pratica cioè per ciascuna di queste soluzioni noi andremo a scrivere andremo si potrebbe scrivere un codice ovviamente diverso e possiamo anche parlare di cosa si tratta allora abbiamo un grafo in figura che è sempre quello è sempre lo stesso e poi di volta in volta cambiamo la soluzione allora la soluzione più banale che forse quella che uno proprio penserebbe all'inizio senza sapere né leggere né scrivere come faccio a implementare il grafo e ne so il grafo lo implemento come una lista di archi perché la lista di archi comprende anche la lista di nodi se il grafo è connesso quindi già questa rappresentazione non è proprio precisissima perché supponiamo di avere un vertice che sta appeso nel nulla che non ha archi che lo connettono ad altri nodi beh la lista di archi farà sì che quel nodo non appaia in questa lista quindi è un nodo che è andato perso non fa parte di questa rappresentazione quindi la lista di archi diciamo si usa solo quando il grafo è connesso quindi ogni vertice è almeno connesso ad un altro vertice e cosa consiste la lista di archi beh è una lista appunto quindi a livello implementativo potrebbe essere una list proprio una lista collegata potrebbe essere un vector dipende una scelta comunque progettuale è una sequenza una lista un contenitore di archi quindi abbiamo a b abbiamo c a abbiamo b c b c c d e a d dove però anche qui questa lista non ci dice se il grafo è orientato non orientato allora una lista si è fatta dove a b appare soltanto in una forma appunto a b ma non c'è b a mi farebbe pensare che questo sia un grafo orientato e quindi non c'è un arco da b ad a quindi questa rappresentazione anche qui sta supponendo che il grafo sia non orientato se fosse orientato questo perché appunto poi eh ci sono le rappresentazioni per i grafi eh orientati ad hoc quindi se stiamo dicendo che il grafo è eh non orientato stiamo anche supponendo che ogni arco sia comunque contiene anche l'arco viceversa quindi l'arco a b contiene anche l'arco b a questo perché questa rappresentazione sta supponendo che il grafo sia orientato magari da qualche parte ci sta un flag booleano qui grafo orientato grafo non orientato quindi se il flag è true scusate se il flag è false quindi il grafo non è orientato automaticamente ciascuno di questi archi eh ci indica anche che possiamo andare nella direzione opposta semplice non c'è niente di complicato ora però il problema è quanto costano le operazioni su questo grafo ora quanto costa sapere quanti archi sono incidenti su un determinato nodo data questa struttura eh quindi uno ci dà un nodo voglio sapere quanti archi sono incidenti sul nodo a voglio sapere quanti non quali grado è un numero beh a occhio noi siamo umani quindi guardiamo la figura diciamo che sono uno due e tre eh però noi siamo umani la macchina no quindi la macchina guarda cosa guarda una lista di archi e deve determinare quanti sono gli archi che incidono su a e l'unico modo da fare l'unico modo possibile è andare per ciascuno di questi archi e controllare se per caso pare a cioè il nodo eh che ci è stato dato nell'arco eh attuale quindi in questo arco c'è a sì uno in questo c'è a sì due in questo c'è no no sì tre quindi questa è una praticamente ricerca arco per arco eh se c'è il nodo che stiamo cercando in quell'arco quindi dobbiamo scorrere tutti gli archi pertanto la complessità è o di m m il numero di archi ci sta niente da fare sia che questa sia una lista oppure un vector non cambia il fatto che noi dobbiamo comunque scorrere tutti gli archi alla ricerca del nodo di cui vogliamo calcolare il grado ogni volta che lo troviamo più uno e quindi o di m beh archi incidenti è parente di grado anziché rispondere con quanti risponde con quali sono gli archi incidenti beh quali sono gli archi incidenti eh anziché fare più uno inserisci gli archi in una lista mano a mano che trovi gli archi che incidono su quel nodo quindi avremmo da una parte m è la complessità per scansionare questa lista però mentre aggiungiamo gli elementi alla nostra lista eh stiamo comunque facendo un'operazione in più che dipende da quanti sono appunto gli archi che incidono su quel nodo nel caso peggiore in cui quel nodo sia connesso a tutti eh sia contenuto in tutti gli archi eh che ne so è un grafo con tutti i nodi che convergono verso il centro allora eh anche inserire delle cose dentro la lista o dentro il vector eh avrà una complessità odm però sappiamo dalla eh notazione asintotica che odm la complessità per cercare e scansionare questa lista più odm la complessità per creare nel caso peggiore la lista e odm lo stesso quindi odm più odm certo rispetto al grado questo impiega un po' di più a essere proprio pignolissimi ma comunque nella ottica asintotica questo sempre odm sono adiacenti due nodi x e y dati eh ragazzi in questa struttura l'unico modo per capire se due nodi sono adiacenti è cercare un arco tra x e y quindi sono adiacenti a e d devo cercare nella lista un arco da a a d oppure da d ad a perché questo è un grafo non orientato quindi lo cerco qui no 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 trovato nel caso peggiore ovviamente sta alla fine come in questo caso quindi di nuovo odm aggiungi vertice e aggiungi vertice e vertice non ci sta in questa lista aggiungere un vertice appeso nel nulla eh non devo aggiungere nessun arco alla lista quindi odi uno non faccio niente aggiungi un arco beh aggiungere un arco significa che a questa lista aggiungerò un elemento alla fine un pushback eh tra l'altro sia che questo è un vectore o una lista sarà comunque un pushback è uno e odi uno quindi va bene così rimuovi un vertice dato eh e beh attenzione rimuovere un vertice significa che se io rimuovo a essendo questa una lista di archi dovrò rimuovere tutti gli archi dove si trova quindi è un po come andare prima come dicevamo prima in archi incidenti devo andare a rimuovere tutti gli archi che convogono quel vertice che voglio rimuovere e quindi è come se dovessi anzi devo richiamare probabilmente la procedura archi incidenti e tutti gli archi che mi ritorno alla procedura li devo eliminare come si eliminano e beh se è una lista collegata l'eliminazione eh è istantanea e se è un semplice ricollegamento se è un vector no perché bisogna ricompattare le cose a sinistra e questo ci fa pensare ci dà l'indizio che forse sarebbe il caso che eh questa lista di archi venisse implementata proprio con una lista collegata e non con un perfetto perché il vantaggio è che possiamo rimuovere un vertice eh rimuovendo tutti gli archi che eh che coinvolgono quel vertice che contengono quel vertice in od1 quindi ogni arco è eliminato in od1 però eh nel caso peggiore come dicevo prima di vertici in cui tutti gli archi eh connettono quel vertice quindi odm è il caso peggiore anche se qui se facessimo un discorso di caso medio probabilmente questa complessità sarebbe molto più molto più bassa perché nel caso medio è difficile che un vertice eh sia contenuto in tutti gli archi non sarebbe un grafo diciamo canonico è un grafo strano un grafo particolare un caso speciale però nel caso speciale nel caso peggiore è odm e rimuovere un arco beh rimuovere un arco ti danno l'arco è come una lista di nuovo od1 ci vuole od1 per rimuovere un arco un arco dato o dove arco dato significa che mi hanno dato il riferimento eh attenzione quindi eh non è un arco che io devo prima cercare e poi eliminare quindi dato un arco riferimento io so già dove si trova perché mi hanno dato il puntatore e allora io so eliminarlo facendo un collegamento tra il precedente e il successivo voi dite come faccio a fare collegamento tra il precedente e il successivo nella lista collegata abbiamo solo il puntatore al successivo e beh facciamo una lista bidirezionale con il puntatore al successivo e il puntatore al precedente e abbiamo risolto questo problema quindi a livello di implementazione questa cosa si può fare e le complessità sono queste e devo dire non sono delle buone complessità ce ne accorgeremo eh soprattutto questa è un'operazione che eh avviene molto spesso di frequente negli algoritmi e il fatto che sia odm non è che ci piace molto perché m nel caso peggiore è n quadro abbiamo visto ieri quindi insomma solo per avere un'operazione che è una piccola parte di un algoritmo noi impieghiamo od n quadro non è proprio una cosa diciamo positiva e in effetti ci sono altre soluzioni in cui questa stessa operazione passa da odm a od grado di v che è un numero molto molto più piccolo in media vediamo di che si tratta allora lista di adiacenza la lista di adiacenza come dice la parola è una lista anche qui possiamo decidere se farlo proprio lista o vector eh comunque è un contenitore di liste di adiacenza quindi cosa significa che il contenitore è grande quanti sono i nodi quindi questo possiamo pensarlo come vettore di nodi lista di nodi eh sono eh celle eh in numero pari ai nodi e sono indicizzate tra l'altro tramite il nodo come facciamo a indicizzarle per esempio associamo al nodo a gli associamo lo zero al nodo b gli associamo l'uno eccetera eccetera e quindi noi possiamo accedere alla lista di adiacenza di ciascun nodo semplicemente dicendo se questo è un vector e a questo punto direi che è meglio che sia un vector accediamo praticamente i nodi uno alla lista di ciascun nodo cosa contiene la lista di ciascun nodo contiene i suoi vicini è una lista di adiacenza quindi è un vettore di nodi che ha in ogni elemento di questo vettore è una lista di vicini quindi a ha come vicini b d e c b d e c l'ordine non è importante nei grafi non c'è un ordine se un nodo ha 10 vicini l'ordine di questi vicini è random come ce lo mettete va bene comunque ok b ha come vicini a c b ha come vicini a e d c c a a b d a b d e d c c a c e a c e a c ed a ora quindi questa come si implementa proprio se dovessimo scrivere del codice a volo ehm fatemelo scrivere in 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 notepad senza farmi aprire un un nuovo progetto una cosa del genere si dovrebbe implementare per esempio come un vettore un vettore di ehm liste di interi e questo è il nostro lista di adiacenza perché perché intanto mi serve un modo per indicizzare i nodi anziché indicizzarli per lettere siccome i vettori funzionano con gli interi l'indicizzazione nei vector avviene con gli interi quindi per noi i nodi hanno degli id numerici associati partendo per esempio da zero quindi abbiamo un vettore che accederò con un indice di liste collegate e ciascuna lista contiene degli interi e guarda caso sono proprio gli interi che sono gli id numerici dei vicini quindi voglio sapere quali sono i vicini di a di zero vado in zero e leggerò uno eh tre e due saranno i id numerici di questi vicini e quindi adesso che so quali sono i suoi vicini siccome ho gli id numerici posso andare anche nella lista collegata del vicino b e per fare magari delle elaborazioni per esempio per sapere quali sono i vicini dei vicini i vicini di secondo grado gli amici di secondo grado se questo è un grafo sociale quindi per ciascuno dei vicini andrò nel suo vettore per vedere quali sono i suoi vicini che saranno di secondo grado rispetto ai vicini eh rispetto al nodo da cui ero partito quindi questa lista di recenza si implementa con gli strumenti dell'STL semplicemente con un vettore quello verticale che vedete qui di liste collegate di interi perché noi indicizziamo i nodi tramite gli interi ora quindi supponiamo che sia questa la nostra struttura proprio implementativa quanto occupa di ram e quanto occupa eh n è la lunghezza del vettore di n nodi m eh perché sono eh praticamente eh ogni arco eh farà sì che avrò un vicino per esempio l'arco a d farà sì che in a io avrò d ma in d avrò anche a quindi eh il numero di eh vicini che appaiono in questa struttura è doppio rispetto al numero di archi quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e in effetti sono uno due tre quattro cinque archi quindi abbiamo due volte il numero di archi vicini cioè elementi di tutte le liste della nostra eh lista di recenza vabbè ma due m e due è una costante quindi l'occupazione spaziale è o di m più n prima era o di m abbiamo aggiunto un n e direi abbiamo fatto bene ad aggiungere l'n perché adesso sappiamo anche eh se c'è un nodo isolato appeso nel nulla noi comunque qua ce l'abbiamo questo nodo non avrà vicini ma ce l'abbiamo quindi questa è una struttura sicuramente un po' più generale di di quella di prima e quanto costano però le operazioni eh beh quanto costa il grado di v cioè quanto ci costa sapere quanti quanti sono gli archi incidenti su un nodo e beh siamo in un grafo non orientato quindi il numero di archi incidenti di un nodo corrisponderà alla eh alla al size della lista di adiacenza cioè il grado di a è tre perché ci sono tre archi incidenti ovviamente ma siamo in un grafo non orientato quindi questi sono sicuramente dei vicini pertanto basta chiedersi a qual è il size della tua lista di adiacenza di vicini ora dire andare in a e o di uno perché abbiamo l'accesso nel vettore dire quanto è grande la lista la lista ha un campo size non è che la calcola ogni volta si scorre la lista c'ha un campo che viene aggiornato e quindi o di uno più di uno risultato o di uno beh siamo persi da odm a od uno che mi pare non poco archi incidenti ovvero quali e non quanti quali sono gli archi incidenti e beh quali sono gli archi incidenti eh non è più di uno perché no di nuovo no mamma mia eh devo attivare il denoising di pozzi no allora abbiamo quasi già attivato eh ah è già attivato perché si ricorda della precedente eh del precedente settaggio e vabbè allora sono solo cavoli miei cercherò di fare lezione col trapano in testa allora quindi archi incidenti quali sono gli archi incidenti su quel nodo beh intanzitutto mi hanno dato il nodo quindi riesco ad andare direttamente no di uno in quella lista e beh mi hanno detto quali sono quindi devo fare una copia della lista di adiacenza eh non posso restituire beh potrei anche potrei anche restituire per riferimento la lista però un po' delicato perché se restituisco il riferimento qualcuno può modificare quella lista generalmente si fa una copia in questi casi quindi fare una copia significa che eh bisogna eh fare tanti pushback praticamente o comunque una copia quindi sarà o di numero di vicini di quel nodo o di numero di vicini di quel nodo sarebbe il grado di quel nodo quindi devo fare tanti inserimenti perché devo fare la copia di una lista quanti sono i vicini di quel nodo quindi o di grado di v ecco in media il grado di un nodo è vero che nel caso peggiore il grado di un nodo potrebbe essere o di m se tutti gli archi convergono in quel nodo ma in media non è così quindi intanto qua ci mettiamo o di grado di v nel caso peggiore grado di v sarà m ma è un caso veramente peggiore che non si verifica nella realtà mentre più probabile per esempio in una mappa stradale il grado di un nodo quale sarà cioè uno un incrocio a quante strade è connesso cioè a quanti altri nelle mappe stradali non si parla le strade sono gli archi e i nodi sono i punti di snodo come nel pacman quindi gli incroci le le biforcazioni eccetera a quanti altri nodi sarà connesso un incrocio e beh quattro cinque che ne so se una rotatoria con cinque strade saranno cinque ma non non di più ok quindi nei casi pratici questo è praticamente uno di uno e vi pare poco passare da qui a o di uno ok da odm o di uno sono adiacenti due nodi dati cioè a e di sono adiacenti allora in una lista di recenza per capire se a e di se due nodi sono adiacenti dobbiamo andare a cercare siccome sono adiacenti significa che d è vicino di a ma anche a è vicino di p è un grafo non orientato quindi la relazione è simmetrica allora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare nella lista di recenza di a e cercare di l'abbiamo trovato però avremmo anche potuto andare nella lista di recenza di d e cercare a la relazione simmetrica quindi se se di sta nella lista di a gioco forza a sta nella lista di d allora noi possiamo usare questo trucco per dire siccome io potrei fare la ricerca del vicino quindi mi dicono sono adiacenti x e y allora potrei fare o cerco y nella lista di x o cerco x nella lista di y però siccome sono furbo vado a fare questa ricerca nella lista più breve nella lista più corta tra i due quindi ho la lista di x che è grande size grado di x o la lista di y che ha size grado di y vado in quella più breve sono furbo e risparmio un po di computazione quindi la complessità sarà il minimo del grado di x del grado di y perché il grado perché devo fare una ricerca in una lista una lista collegata non è un albero binario di ricerca è una lista quindi devo fare elemento per elemento cercarlo quindi la complessità sarà o di uno per andare nella lista di un nodo o di uno per andare nella lista dell'altro fare un confronto della size delle due liste è sempre di uno e poi una volta scelta la lista più breve andare elemento per elemento alla ricerca del modo dell'altro nodo quindi o di più piccolo grado di x o grado di y anche questo è un grosso miglioramento siamo passati da odm a un grado che tra l'altro è il più piccolo tra i due gradi dei due nodi quindi veramente molto bene aggiungere un vertice e vabbè pushback di questa di questa struttura aggiungi arco aggiungi arco e beh aggiungere un arco significa che dobbiamo andare nella lista di x e fare pushback di y e nella lista di y e fare pushback di x andare nella lista di 1 fare pushback di 1 andare nella lista di 1 fare pushback di 1 4 di 1 fa di 1 e vabbè questo è rimasto immutato rimuovere un vertice e qua qua paghiamo un po di prezzo perché rimuovere un vertice significa che dobbiamo andare se dobbiamo staccare a significa che dobbiamo purtroppo andare alla ricerca vediamo come possiamo fare vogliamo staccare a se dobbiamo staccare a significa che a non sarà più un vicino dei suoi vicini quindi se andiamo in a è vero che dovremo eliminare tutto questo ma dobbiamo anche dire che tu b che sei mio vicino adesso io ti dico che io non sono più un tuo vicino perché sto per essere eliminato quindi dobbiamo da a per ciascuno dei suoi vicini andare nella lista di quel vicino cercare a ed eliminarlo ragazzi purtroppo questa operazione vedete dobbiamo attraversare nel caso peggiore tutta la lista di b tutta la lista di d e tutta la lista di c e poi eliminare questa lista praticamente stiamo facendo un numero di operazioni che è proporzionale al numero di archi perché nel caso peggiore se a è connesso ad altri nodi che a loro volta hanno una lista lunga che connettono quindi altri nodi allora stiamo praticamente scorrendo un bel po di viste lunghe e sono lunghe più o meno quanti sono gli nodi e gli archi in questa struttura quindi probabilmente già solo questa operazione odm in più c'è il fatto che questo è un vector e se è un vector se stiamo eliminando c se stiamo eliminando a scusate dobbiamo fare il ricompattamento ci pensa vector per noi per carità però deve fare il ricompattamento di tutti questi nodi verso l'alto e ricompattamento impiega o di n quindi diciamo che la complessità qui dovrebbe essere o di m più n però diciamo che questo dipende anche un po dalla nostra scelta della struttura vector e questo è il motivo per cui qui non appare n e poi se abbiamo detto che m è almeno pari ad n in un grafo connesso allora la complessità sarà o di n scusate un attimo che è una chiamata molto importante sì salve sì il crn sì sì salve quindi oggi e oggi la logopedia l'una e mezza va bene ok va bene va bene la ringrazio la ringrazio arrivederci scusate ragazzi ma era una cosa veramente importante ok dicevo quindi la complessità sarebbe odm più n ma un po perché dipende anche dalla particolare implementazione del nostro vector e anche perché m comunque almeno n allora questo è uno di m poi rimane rimuovere l'arco beh rimuovere un arco se qualcuno ci dà il riferimento ma il riferimento in questo caso non c'è non c'è un oggetto arco in questa in questa struttura quindi ci danno praticamente la coppia di nodi da rimuovere la coppia di nodi rappresenta l'arco beh non ci resta altro che fare andare in uno dei due nodi alla ricerca dell'altro nodo da eliminare e poi anche nell'altro nodo alla ricerca del nodo da eliminare quindi dobbiamo eliminare ad dobbiamo andare in a alla ricerca di d ed eliminarlo poi dobbiamo andare in d alla ricerca di a ed eliminarlo quindi dobbiamo in tutto fare una scansione di due liste che sono grandi o di grado di a più o di grado di d quindi sarà o di grado di x più grado di y non c'è niente da fare ok va bene questa comunque è una struttura che vi anticipo sarà quella che che utilizzeremo perché vedremo che negli algoritmi specialmente quelli di visita e praticamente tutti gli altri che poi si basano bene o male sulle visite vedremo che scegliere questa struttura ci darà un vantaggio di rispetto computazionale bene poi c'è la lista di incidenza che è una leggera variazione rispetto alla lista di adiacenza perché nella lista di incidenza abbiamo un una lista non dei nodi vicini ma una lista per ciascun nodo degli archi che incidono su quel nodo e questi archi hanno a loro volta una propria indicizzazione all'interno di un vettore o una lista di archi quindi questa è un po' la fusione tra la lista di archi e la lista di recenza abbiamo da una parte la lista di archi e dall'altra abbiamo una lista di archi incidenti su quel nodo e appunto si chiama lista di incidenza quindi A avrà una lista di tre archi 0,4,1 dove 0,4,1 saranno gli indici non più dei nodi ma degli archi nel vettore a questo punto converrebbe essere vettore se vogliamo accedere per indicizzazione diretta quindi 0, AB, 4, AD e 1, CA ora vediamo come cambiano queste queste complessità in realtà non cambiano però cerchiamo di giustificare perché non cambiano ragazzi non cambiano perché queste strutture sono praticamente equivalenti perché nel momento in cui io qui al posto di un arco al posto di un nodo c'è un arco è vero che ho perso apparentemente un'informazione ma quell'arco io lo posso indicizzare in maniera diretta da un altro vector quindi posso comunque poi sapere quali sono i nodi che coinvolgono quell'arco e siccome uno di questi due nodi è sicuramente quello in cui mi trovo l'altro sarà il nostro vicino quindi da passare dal nodo al vicino è praticamente uno di uno in più ma non aggiunge nulla alle complessità che abbiamo appena discusso quindi l'occupazione spaziale rimane comunque O di M più M perché sarebbe M archi qui più N nodi qui più altri M archi qui sarebbe O di 2M più N anzi O di 3M perché sarebbero due volte gli archi qui perché appaiono due volte gli archi sono grafi non orientati più altri M quindi sarebbe 3M più N a essere pignoli però comunque O di M più N a livello di complessità sintotica il grado è sempre lo stesso perché appunto la definizione di grado è quanti archi incidenti ci sono quindi come prima abbiamo proprio la lista di archi incidenti quali sono gli archi incidenti? Beh è la stessa cosa qui abbiamo proprio gli archi incidenti che possiamo proprio indicizzare dalla lista o dal vettore di archi incidenti sono adiacenti due vertici? E beh vediamo un po' questo è meglio vederlo sono adiacenti XY? Sono adiacenti A e D? Beh vado nella lista di A e per ciascuno degli archi vado a vedere se appare il nodo B che ne so sono adiacenti A e D scusate vado in A e per ciascuno degli archi della lista salto nell'elemento del vettore di archi per vedere se c'è D in 0 c'è D no in 4 c'è D sì trovato però vedete come vi dicevo prima questo salto è un salto che si fa in OD1 quindi alla fine anche questa operazione ricade nel caso precedente aggiungere un vertice di nuovo è un elemento qui aggiungere un arco è un aggiungere un arco si fa nella lista si aggiunge un elemento pushback in questo vettore e poi si deve andare aggiungere un arco tra XY bisogna andare nella lista di X quindi per esempio aggiungo BD vado in B e gli aggiungerò un ID numerico che sarà quello dell'arco BD che prima dovrò aver aggiunto qui nel vettore avrà un indice 5 quindi faccio pushback 5 in B e pushback 5 in D quindi due pushback OD1 OD1 e un OD1 pushback qui nel vettore di archi quindi OD1 aggiungi arco rimuovi i vertici e rimuovi i arco ragazzi abbiamo capito ormai che queste due strutture hanno le medesime complessità perché sono molto imparentate tra di loro c'è soltanto un ulteriore salto indiretto da arco a vertici che compongono quell'arco ma è un salto che si fa in OD1 se questo è un vector o comunque una struttura analoga indicizzabile molto diverse invece sono le matrici per esempio la matrice di adiacenza allora la matrice di adiacenza è una matrice che ha n nodi righe e n nodi colonne dove l'elemento di ciascuna matrice l'elemento di ciascun elemento della matrice vale 0 se non sono vicini e 1 se sono vicini o adiacenti quei due nodi quindi si dice che un nodo non è adiacente a se stesso altrimenti potrebbe essere adiacente a se stesso ragazzi nei grafi nulla osta di avere un arco che parte da A e finisce in A in quel caso sarebbe adiacente a se stesso in questo grafo non c'è nessun arco che parte e va in se stesso però se ci fosse ci potrebbero essere anche degli uni sulla diagonale nulla dieta che ci siano questi uni sulla diagonale bene allora quindi c'è un arco da A a B e B vicino di A sì anche D e anche C e quindi abbiamo 1, 1 e 1 eccetera ovviamente questi uni ce li ritroviamo anche qui questa è una matrice vedete simmetrica rispetto alla diagonale quindi tra l'altro essendo simmetrica si potrebbe anche evitare di memorizzarla tutta quanta e quindi magari anziché occupare N quadro ebbè insomma però la memoria del calcolatore quella è anche se ci mettiamo c'è le vuote comunque le abbiamo occupate l'occupazione spaziale è N per N quindi N quadro vediamo adesso le operazioni quanti sono gli archi incidenti su un nodo e quanti sono saranno pari al numero di nodi adiacenti a quel nodo perché per ciascun nodo adiacente c'è un arco incidente sul nodo V quindi bisogna chiedersi quanti uni ci sono nella riga del nodo che ci interessa quanti archi sono incidenti su D bisogna andare alla riga D contare gli uni 1 e 2 contare gli uni significa scandire, scansionare la riga di D la riga è grande O di N quindi O di N mentre prima era O di 1 adesso siamo passati a O di N quali sono gli archi incidenti su un nodo? ebbè è parente di grado anziché rispondere con un numero dobbiamo fare un pushback ogni volta quindi siamo in D abbiamo trovato un 1 facciamo un pushback del arco D A poi un altro 1 un pushback dell'arco D C ebbè nel caso peggiore faremo N pushback ma sarà O di N più O di N che è sempre O di N sono adiacenti X e Y? ecco questo è il motivo per cui questa struttura esiste questa struttura è in grado di rispondere con O di 1 alla domanda sono adiacenti perché essere adiacenti significa che se io vado nella riga di X e nella colonna di Y se trovo un 1 dico che sono adiacenti quindi è un accesso diretto non c'è praticamente nessun calcolo da fare quindi sono adiacenti X e Y in codice diventa IF matrice di X dove è l'indice di X Y uguale uguale a 1 quindi IF se sono 0 o 1 basta dire IF valore perché un valore diverso da 0 è sempre positivo è sempre true e un valore 0 è sempre false quindi facile da scrivere O di 1 quindi facile e veloce da calcolare verifichiamo ovviamente sono adiacenti B e D vado alla riga di B alla colonna di D trovo 0 non sono adiacenti sono adiacenti A e D vado nella riga di A nella colonna di D trovo un 1 sono adiacenti quindi è O di 1 siamo passati quindi da O di min che comunque era un bel risultato a O di 1 quindi non c'è struttura dati più veloce della matrice di adiacenza per avere la risposta alla domanda se due nodi sono adiacenti quindi perché esistono tutte queste strutture? perché ciascuna di queste strutture ha dei vantaggi rispetto alle altre ci sono dei problemi non in tutti i problemi ma ci sono dei problemi in cui conviene usare la matrice di adiacenza perché l'operazione più importante nell'algoritmo è sono adiacenti ci sono poi altri problemi in cui invece conviene utilizzare le liste di incidenza o di adiacenza perché l'operazione più frequente nell'algoritmo è archi incidenti quindi a seconda di quello che è il problema è la soluzione algoritmica uno si sceglie la struttura dati per rappresentare il grafo più adatta poi aggiungi vertice purtroppo non c'è niente da fare ragazzi è una matrice per raggiungere un vertice bisogna riallocare la memoria della matrice e quindi n quadro purtroppo aggiungere un arco significa che se c'è un arco che connette x e y significa che y diventa vicino di x e viceversa quindi bisogna andare in quella casella per esempio c'è un arco da b a d bisogna andare in bd mettere 1 e in db mettere 1 quindi devo fare due accessi o di 1 rimuovere un vertice e come aggiungi vertice devo riallocare purtroppo tutta la frice rimuovere un arco e come aggiungi arco devo andare nelle due caselle e anziché mettere 1 mettere 0 quindi di nuovo o di 1 quindi vabbè i vantaggi della matrice di recenza sono potrebbe essere anche un vantaggio in temi di memoria n quadro potrebbe ma è difficile perché m nel caso peggiore n quadro quindi sarebbe n quadro più n ma comunque diciamo che la matrice di recenza in media occupa più del liste di incidenza quindi non è un vantaggio di tempo spaziale il vantaggio ragazzi è unicamente la risposta alla domanda sono adiacenti poi c'è la matrice di incidenza che apparentemente in effetti è una struttura che diciamo è molto raro che si utilizza io non l'ho mai visto utilizzare però è una struttura che mette in corrispondenza le righe sulle righe i nodi e sulle colonne gli archi quindi è una matrice m per n non più n quadro quindi n righe per m colonne forse sarebbe meglio chiamarla n per m vabbè comunque ci siamo intesi appunto mette in corrispondenza i nodi con gli archi incidenti su quel nodo quindi in A incidono gli archi AB 1 CA 1 e AD 1 e gli altri no quindi 0 adesso però le operazioni peggiorano un po' tutte perché abbiamo che quanti sono gli archi incidenti sul nodo bisogna contare gli uni su quella riga quella riga è grande numero di colonne numero di colonne o di m quali sono gli archi incidenti è lo stesso devi scorrere la riga quindi o di m sono adecenti due nodi per sapere se sono adecenti bisogna andare nella riga di A ad esempio sono adecenti B e D non lo sono però vediamo bisogna andare nella riga di B e per ciascuno degli archi vedere se troviamo D il problema per ciascuno degli archi scusate dobbiamo andare nella riga di B e per ciascuno degli archi vedere se c'è un arco B D non c'è e quindi la risposta è no però dobbiamo scansionare tutti gli archi e quindi O di M aggiungere vertici significa riallocare la matrice quindi N per M aggiungere un arco purtroppo di nuovo significa riallocare la matrice perché stanno sulle colonne quindi N per M rimuovere un vertice stessa cosa rimuovere un arco stessa cosa ragazzi questa struttura insomma non offre apparentemente nessun vantaggio rispetto alle altre e in effetti è una struttura che non si usa praticamente mai nel caso in cui i grafi siano orientati non cambia molto ragazzi l'unica cosa è va bene nel caso dell'incidenza il concetto di incidenza e in effetti ce ne accorgiamo anche nella lista un arco che incide su un nodo deve tenere conto anche della direzione perché appunto l'arco AB è un arco che incide in A ma non è un arco che incide in B perché non è un arco che esce da B ok quindi nel caso in cui i grafi siano orientati l'incidenza deve tener conto anche del fatto che l'arco esca oppure no se esce è incidente se non esce non è incidente se un nodo ha un arco che gli arriva dalla sorgente allora quella sorgente noi siamo un vicino per quella sorgente ma non viceversa quindi B è un vicino di A perché da A possiamo andare in B ma A non è un vicino di B perché da B non possiamo andare in A attraverso quell'arco come dicevamo la relazione non è simmetrica nei grafi orientati quindi avremo che la lista di adecenza e la lista di incidenza avrà la metà dei vicini e degli archi nelle liste quindi prima ne avevamo 10 ora ne abbiamo 5 e nella lista nella matrice di incidenza anche nella matrice di incidenza abbiamo la metà degli uni ma nella matrice di incidenza dobbiamo dire anche adattare la struttura dicendo che l'incidenza di quella diciamo in cui un arco parte da A e arriva in B è 1 ma quella in cui un arco arriva nel nodo in cui ci troviamo la la modelliamo con un menu 1 quindi questo ci dà un'informazione in più rispetto agli archi che entrano e che escano dal nodo e forse questo è un vero vantaggio che ci dà questa struttura rispetto alle altre cioè che possiamo capire subito se un arco esce oppure entra in quel nodo quindi vogliamo la lista degli archi entranti in quel nodo ecco un'operazione che magari non è inclusa in questa sequenza di operazioni beh nella matrice di incidenza questo è probabilmente più facile da fare rispetto alle altre strutture perché basta andare alla ricerca dei meno 1 ok non che non sia possibile farlo nelle altre però qui l'algoritmo è proprio banale va alla ricerca dei conti meno 1 nella nella riga di quel nodo bene questo chiude le rappresentazioni quindi ora il problema è quale rappresentazione utilizzare da qui nel resto del corso perché gli algoritmi che faremo sono comunque algoritmi che bene o male hanno tutti le stesse caratteristiche in termini di struttura visitano praticamente i nostri grafi quindi dobbiamo capire come funzionano le visite dei grafi beh intanto a che servono le visite servono un po' come nel caso degli abri sono lo scheletro degli algoritmi che verranno dopo quindi se non altro servono per capire quello che arriverà ma in realtà nel caso dei grafi la visita ha una sua utilità pratica mentre nel caso degli alberi la visita insomma serviva per stampare nodi oppure ci potevamo mettere sopra dei calcoli come il calcolo dell'altezza però appunto quello è un algoritmo già di per sé non è la visita è una visita modificata nel caso dei grafi la visita può essere di utilizzo pratico di per sé avete mai sentito parlare non lo so se avete mai sentito parlare dei web crawler cosa sono i web crawler sono utilizzati dei motori di ricerca come google immaginate non lo so in questa figura questi bot questi ragnetti che esplorano la rete di internet e servono a google e in realtà servono a tutti i motori di indicizzazione quindi tutti i motori di ricerca per esplorare il web alla ricerca dei nuovi collegamenti cioè il grafo del web il web è un grafo innanzitutto chiariamo questa cosa il web la rete internet è un grafo molto molto complesso ovviamente quindi nessuno si sogna di beh nessuno google probabilmente si si sognano di modellarlo con un grafo tutto quanto perché quando voi fate una ricerca su google e vi dà le pagine in cui che sono attinenti a quello che state cercando google ha sicuramente una struttura dati molto complessa e sta facendo un'analisi del grafo perché sta cercando di capire quali sono le cose più utili per la vostra ricerca quindi per fare questo google deve essere aggiornato deve mantenersi aggiornato cioè se io adesso Alessandro Bria mi faccio un sito web e il mio sito web è un sito che poi pubblicizzo da facebook pubblicizzo sul sito dell'università e poi io stesso nel mio sito web pubblicizzo altri siti web notate come questo si può modellare con un grafo perché io sono un nodo il sito web è un nodo e i link agli altri siti sono gli archi quindi se il sito dell'università ha un link verso il mio sito quello è un arco se io linko il sito di tizio e caio io sto praticamente creando degli archi verso i siti in odio di tizio e caio quindi il grafo di internet è un grafo in continuo mutamento allora esistono ed esistono davvero dei bot che periodicamente scandagliano le pagine web alla ricerca di questi link che poi mandano altri link a volte uno finisce anche in un ciclo perché magari io ho il link di una pagina che ha il link di un'altra pagina ma quell'altra pagina ha un link della mia pagina e quindi si può creare un ciclo sono grafi assolutamente ciclici ci sono i cicli in questi grafi allora la visita di un grafo potrebbe servire appunto per capire se c'è qualcosa di nuovo se c'è qualche nuovo sito che sta nascendo che è nato su internet quindi è assolutamente questa operazione si chiama crawling è assolutamente un'operazione che fanno il motore di ricerca che è basata sulle visite dei grafi c'è anche un'altra applicazione però questa è un po' eticamente infatti non ne parlo non ne parlo c'è un'altra applicazione sempre basata su internet in realtà è più basata sul broadcast di rete se state in una rete di calcolatori immaginate una rete di Ateneo una rete aziendale o una rete insomma esterna una rete una rete locale una rete di calcolatori internet è una rete di calcolatori se voi siete dei malfattori o ad esempio se voi siete che ne so degli hacker che vogliono infettare che ne so mettere a suo quadro il sistema bancario americano o altre cose insomma siete come si chiamano gli hacker di quelli con la maschera di viper vendetta come si chiamano non mi viene in mente in questo momento il loro nome gli anonymous ecco si chiamano così anonymous vabbè mi fido si chiamano praticamente si chiamano che non si chiamano anonymous beh se siete comunque dei malintenzionati e volete diffondere un virus un 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 trojan un un qualunque malware volete diffondere qualcosa anche una notizia non è detto che sia per forza un pezzo di software un pezzo di codice beh allora le visite possono essere di vostro interesse perché le visite hanno a che fare con la diffusione di qualcosa a partire da una sorgente quindi a partire da un nodo io visito gli altri nodi mentre nel caso dell'albero la partenza era sempre la radice nel caso dei grafi la partenza è arbitraria quindi voi siete un nodo della rete voi siete il computer di casa vostra volete arrivare a distruggere il sistema bancario americano come fare dalla casa vostra dovete progettare un algoritmo di espansione che vada direttamente verso l'America nella rete di calcolatori perché la rete di calcolatori sono reti appunto che connettono tutti i calcolatori del mondo ma non tutti con tutti il vostro computer di casa è collegato al server locale del vostro quartiere non server al si è un indirizzatore poi ci sarà comunque un server locale della vostra città del vostro distretto poi quel server sarà collegato ad un server regionale ad un server nazionale poi eccetera eccetera ragazzi è possibile tra l'altro ci sono delle applicazioni che vi consentono di tracciare il percorso che fanno i pacchetti i pacchetti P sono i pacchetti di cui è fatto il contenuto che voi vi arriva magari sul sito web o via chat o whatsapp o quello che è per vedere che strada ha fatto e a volte uno si stupisce che le strade sono le più disparate questi pacchetti magari per viaggiare che ne so da Roma a Cassino anziché fare la strada diretta sono andati che ne so dall'altra parte del mondo poi sono andati in Russia in Cina in Alaska e poi sono tornati in Italia voi dici perché una cosa del genere perché la rete di calcolatori è complessa e a volte c'è del traffico e per ovviare a questo traffico magari conviene andare dall'altra parte dell'oceano e poi fare il giro del mondo si fa prima che invece usare la via diretta perché magari la via diretta è troppo trafficata immaginate in questo momento in cui stiamo parlando con questa didattica online non solo noi ma le scuole e tutte le università in questo momento la rete internet è molto trafficata nei paesi dove la didattica a distanza è diventata in questo momento l'obbligo quindi in questo momento probabilmente davvero se io mi connetto a google probabilmente anziché l'informazione arrivarmi direttamente fa il giro del mondo perché la rete locale in questo momento è molto congestionata da tutte queste sessioni di didattica a distanza di ragazzi e bambini quindi a che servono le visite servono in quel caso a evitare che il vostro pezzo di malware o la vostra news faccia dei percorsi che non devono essere quelli e quindi fare una visita per esempio diremo dopo in profondità oppure in ampiezza vedremo di che si tratta quindi vabbè altre applicazioni social networking network broadcast cioè appunto esplorare la rete per scopi benevoli o malevoli ma ci sono anche altre applicazioni il garbage collector è un meccanismo che si trova in java in c sharp e in generale in tutti i linguaggi interpretati anche in python dove non c'è un meccanismo diretto di allocazione della memoria noi in c++ la allochiamo e la dialoghiamo su richiesta in altri linguaggi invece questo avviene tramite un garbage collector che va alla ricerca appunto esplorando il grafo di tutte le variabili di tutti i dati del problema alla ricerca di cose che non servono più non servono più perché nessuno le ha mai accedute o utilizzate fino a quel momento e allora le dealloca quindi mentre noi in c++ decidiamo quando allocare e quando deallocare invece in altri linguaggi a volte noi magari allochiamo qualcosa e quel qualcosa già c'era perché c'è un meccanismo che cerca anche di prevedere l'utilizzo però succede che magari in questi sistemi a me è successo in java che se stiamo gestendo grandi quantità di dati per esempio stiamo facendo un google earth qualcosa che occupa tanto spazio tanta memoria ram non avere l'accesso diretto è uno svantaggio perché in quel caso ci dobbiamo fidare di questi meccanismi di esplorazione e che loro decideranno quando fare spazio in memoria e a volte questo è un problema in effetti questo è uno dei vantaggi di un linguaggio come il c++ vabbè però ho divagato le visite di grafici si possono usare veramente per tante applicazioni per risolvere il cubo di rubik perché si va come vi dicevo l'altra volta a cercare il percorso che ci porta alla configurazione che noi chiamiamo soluzione ma in realtà vuole soltanto una possibile configurazione e poi ci sono anche algoritmi di model checking cioè macchine a stati in cui si possono modellare anzi si modellano con dei grafi alcuni di questi stati sono dei fallimenti delle rotture del sistema altri invece sono più tranquilli esplorare il grafo ci consente di capire quanto sono lontani questi stati di rottura è come evitare soprattutto di arrivarci e se ci sono questi stati di rottura come aggirarli quindi model checking serve anche a evitare che il nostro grafo che gestisce tutte le transizioni un po' come le transizioni tra l'altro dei giochi azione transizione in un altro stato eviti appunto delle rotture dei fallimenti però comunque questo è un divagare vediamo nella pratica come sono fatte queste visite allora di visite ce ne sono di due tipi nei grafi in ampiezza e in profondità e come dice la parola una visita in ampiezza sarà una visita che partendo da un nodo si espanderà in maniera più o meno radiale quindi se siete degli hacker questo potrebbe rispondere alla esigenza di voler infettare i computer della rete locale cioè se voi ce l'avete a morte con la rete locale che ne so siete volete infettare i computer dell'università e allora la visita dovrebbe essere in ampiezza perché dovete espandervi localmente quindi andando a infettare tutti i computer della rete locale se invece lo vedremo volete andare a infettare i computer che stanno in America anzi se siete degli hacker che non volete essere trovati quindi volete infettare delle cose che stanno lontane da dove vi trovate allora dovreste usare una visita in profondità che arriva prima in Cina in America in Russia in Australia in Nuova Zelanda in Alaska eccetera poi solo alla fine arriverà in locale e voi potreste mettere un controllo del tipo non c'è arrivare quindi io infetto le cose lontane da me e poi chiudo tutto e nessuno mi trova teoricamente ok vediamo quindi come funzionano queste visite poi faremo anche degli esempi pratici su dei grafi allora la visita in ampiezza le visite le conosciamo la visita serve per visitare quindi stampare verificare la presenza di tutti i nodi del grafo mentre nell'albero l'abbiamo visto a suo tempo ora una visita in ampiezza utilizza una coda per memorizzare i vertici mano a mano che vengono scoperti e i loro vicini mentre una visita in profondità utilizza utilizza la ricursione ma la ricursione vi ricordate che cosa corrisponde nella memoria del calcolatore corrisponde allo stack diciamo proprio che la ricursione sono chiamate delle funzioni che vengono messe in attesa sullo stack stack è l'equivalente di coda in italiano quindi la visita in profondità usa indirettamente una pila scusate non coda usa indirettamente una pila attraverso la ricursione mentre la visita in ampiezza usa direttamente una coda quindi come funziona parto da un vertice quindi siamo jaker a casa nostra oppure chissà dove siamo e vogliamo visitare i vertici quindi i nodi della nostra rete di calcolatori in maniera radiale espandendoci dal centro verso l'esterno piano piano non ci interessa andare in america a noi ci interessa fare danni lì dove siamo proprio ok quindi che ne so state in matrix e volete disattivare la rete elettrica vi ricordate quella puntata di matrix revolution no era matrix reloaded in cui trinity deve disattivare la rete elettrica locale di quella città vabbè per gli scopi insomma non divago troppo però quello è un esempio appunto di dover fare una visita trinity in quel momento sta facendo una visita in ampiezza perché il suo scopo non è di disattivare la rete elettrica della città adiacente ma la rete elettrica del quartiere e dei quartieri a esso circostanti quindi inizialmente tutti i vertici non sono marcati non sono visitati ora trascuriamo il fatto che ci renderebbe un po' più complesso e non è importante le visite ve l'ho detto prima siccome visitano i nodi una e una sola volta l'ordine di queste visite genera un albero che si chiama albero di visita però non è utile ai nostri scopi non in questo corso sappiate che esiste ma non non andiamo noi a studiare non vi chiedo e non andiamo a discutere questo albero quindi dove appare albero facciamo finta che non appare niente quindi abbiamo una coda marchiamo intanto il vertice visitiamo il vertice di partenza e poi lo mettiamo appunto nella coda ora finché la coda non è vuota estraiamo un vertice dalla coda e per ogni arco che è incidente su quel vertice u quindi inciderà significa che avremo un vicino nuovo v mettiamo in coda quel vicino lo marchiamo perché lo abbiamo visitato e andiamo avanti che significa ragazzi nella pratica significa che ogni volta che noi visitiamo un vicino stiamo mettendo nella coda i suoi vicini siccome la coda funziona come quella delle poste cioè che chi da più tempo sta in coda è il primo a essere servito alla precedenza significa che se noi partiamo dal centro e mettiamo in coda i circostanti poi quando andiamo nei circostanti per ciascuno di quegli nodi mettiamo in coda i suoi vicini ma nel frattempo nella coda c'erano ancora tutti gli altri quindi noi prima di spostarci lontano nello spazio del grafo della rete di calcolatori se stete facendo aggeraggio dobbiamo però prima processare tutti quelli che erano in coda vediamo adesso questo con un esempio facciamo un esempio ecco non sulle slide così avete degli esempi in più sulle slide da vedere poi con calma più gli esempi che vi faccio io adesso allora io ho un po' di grafic qui facciamo per esempio questo scegliamo un nodo da cui partire scegliamo vabbè s s sta per sorgente però in realtà potremmo partire da qualunque nodo ok però per vedere questa cosa in ampiezza vorrei partire da un nodo che comunque ecco mi piace partire da questo grafo perché vi faccio vedere proprio questa cosa che si espande in maniera radiale partiamo da uno uno lo visito e metto in coda i suoi vicini ora l'ordine in cui li metto in coda è arbitrario quindi metto in coda per esempio prima questo poi questo poi questo poi questo e poi questo quindi uno è stato visitato e ha messo in coda i suoi vicini adesso estraggo il prossimo dalla coda il prossimo è sette e sette dovrà mettere in coda i suoi vicini dovrà essere visitato ovviamente e mettere in coda i suoi vicini quindi se non sono già stati visitati vediamo se non lo dimentico infatti se non è ancora stato visitato lo metti in coda ovviamente quindi sei scusate allora prendi il nodo dalla coda per ogni arco se non è ancora stato marcato lo metti in coda e visitalo quindi quando metti in coda i vicini li deve anche visitare ok quindi uno ha messo in coda sette sei cinque quattro e due e li ha anche visitati adesso siamo in sette lo estraggo dalla coda deve mettere in coda i suoi vicini e visitarli ma siccome sei già stato visitato non lo mette in coda e poi non c'è nient'altro si passa quindi a sei ma non c'è nient'altro si passa a cinque che non mette in coda nulla perché sei già stato visitato si passa a quattro che non ha nessun arco uscente tranne cinque ma è già stato visitato si passa a due due mette in coda tre perché tre non è mai stato visitato però beh però niente abbiamo finito di visitare effettivamente tutti quelli che abbiamo visitato e quindi a questo punto il prossimo nella coda è tre quindi vedete abbiamo visitato questi vicini e poi siamo andati in tre adesso in tre noi cerchiamo di visitare quattro ma è già stato visitato non ci riusciamo cerchiamo di visitare due non ci riusciamo perché è già stato visitato non c'è nient'altro quindi niente scusate sempre queste chiamate importanti salve pronto? ok non era importante bene a questo punto la visita si ferma perché perché questo grafo non è connesso un grafo è connesso se dato una qualunque coppia di punti io posso arrivare in qualche modo dalla sorgente alla destinazione questo non è un grafo connesso perché vedete che qui ci sono degli archi che vanno verso questa componente però non posso raggiungere tutti gli archi per esempio da otto io non posso vediamo da sette da dieci da dieci non posso raggiungere uno da dieci io posso andare in due posso andare in quattro posso andare in cinque in sei e poi in uno non ci arrivo quindi in tre in due e non ci arrivo questo non è un grafo connesso quindi non essendo un grafo connesso la visita dipende dal nodo di partenza sono partito da uno abbiamo visitato sette sei cinque quattro due poi tre e purtroppo non riusciamo a visitare otto nove e dieci perché partendo da uno non c'era modo di arrivare a otto né a nove né a dieci quindi quindi amen pazienza la visita finisce qui ed è giusto che sia finita qui quindi è un po' come se il nostro nella nostra rete di calcolatori ci siano dei nodi che sono tagliati fuori beh succede non li possiamo raggiungere facciamo un altro esempio magari questo lo faccio fare a voi vorrei che qualcuno di voi mi facesse una visita in ampiezza di questo grafo a partire da A per favore provateci partire da A beh questo lo faccio io prossimo però dovete fare uno di voi allora a partire da A io devo prima mettere in visito il nodo dove mi trovo ovviamente A metto in coda i suoi vicini e li visito quindi metto in coda C e D e li visito ora siccome ho messo in coda prima C devo andare nel nodo C e mettere in coda i suoi vicini se non li ho ancora visitati D l'ho già visitato quindi devo mettere in coda S però adesso anziché passare ad analizzare S mi ricordo che nella coda ci sta ancora D quindi vedete perché è una visita in ampiezza perché anziché andare da A a C e da C ad S adesso vado in C ho sì aggiunto S alla coda ma devo andare ad analizzare D quindi mi devo prima muovere in senso radiale quindi vado in D D ha un vicino G1 lo mette in coda però adesso mi ricordo che nella coda c'è la prima S quindi vado in S metto in coda B però nella coda c'è la prima G1 quindi adesso vado in G1 non c'è più nessuno da mettere in coda adesso posso finalmente andare in B quindi vedete come questa cosa è sempre più radiale da A ho prima visitato C, C e D poi ho visitato S poi D quindi i nodi a livello diciamo 2 prima i nodi che stanno a distanza 1 poi i nodi che stanno a distanza 2 poi i nodi che stanno a distanza 3 G1 e B e poi ovviamente visiterò i nodi a distanza 4 G2 ed è a partire da A cioè visito nodi a distanze sempre più crescenti l'ordine esatto dipende da come le incontro quindi magari non è prima C magari è prima D magari è prima G1 e poi S però comunque quello che importa è che in una visita in ampiezza non dovrebbe mai accadere che un nodo che si trova ad una distanza superiore viene visitato prima di un nodo che si trova ad una distanza inferiore quindi A una possibile visita è A C D G1 S B G2 un'altra visita possibile è A D C G1 S oppure S G1 B in realtà poteva anche essere poteva anche essere C D anziché S poteva essere anche B effettivamente perché questo pure è a distanza 2 quindi poteva essere anche C D scusate poteva essere D C B S G1 e poi 1 tra E o G2 quindi dipende da come scegliete i nodi da mettere in coda se mettevamo prima in coda D poi avremmo dovuto mettere in coda prima B rispetto a S perché siamo andati prima in D e abbiamo messo in coda B e G1 poi siamo andati in C e abbiamo messo in coda S quindi in quel caso avremmo dovuto prima processare B prima G1 perché anche G1 dista 2 da A e poi S dipende sempre dall'ordine con cui l'abbiamo messi in coda vi chiedo a uno di voi di fare questo esempio qui una visita in ampiezza a partire eh questo però è un grafo che a occhio potrebbe non essere connesso vediamo un po' facciamolo facciamo un grafo più semplice ma sono doppie frecce prof no? eh io vedo delle doppie frecce eh sì sì doppie frecce significa che è come se fosse un arco quell'arco non orientato è come se ci fossero due archi la doppia freccia due archi uno in una direzione o in un altro caso ehm fatemi trovare un altro esempio eh eh questo esempio è qui per esempio vediamo un po' una visita in profondità a partire da a partire sto cercando un attimo di ragionare a partire da v5 chi mi sa fare una visita in profondità a partire da v5 posso provare io prof sì sì ok eh da v5 visito v5 e vado verso v6 e v7 poi sì e lì visito quindi v5 v6 e v7 sì quindi metto v6 e v7 ho messo prima in coda v6 quindi visito v6 e metto in coda v8 esattamente poi visito v7 dato che era in coda e metto in coda v3 esattamente poi vado su v8 quindi visito v8 v7 già era in coda quindi metto in coda v4 e vado su v3 esattamente da v3 metto in coda v1 esattamente e v4 sì v4 ha già v3 che è stato visitato quindi metto in coda v2 esattamente visito v1 però v1 ha già v5 già siamo partiti v2 è già visto in coda quindi è finito perfetto bene bravo questa è una visita in ampiezza quindi capite che questa cosa avviene in maniera radiale però radiale non dovete pensarla perché non abbiamo visitato v1 che sta vicino a v5 non ci sta vicino perché per arrivare a v1 da v5 bisogna fare un bel percorso bisogna fare almeno questo 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 guardate quanto è lontano v1 da v5 è lontano 1 2 3 4 5 oppure 1 2 3 è lontano 3 quindi comunque è lontano quindi in questa espansione radiale v1 verrà visitato nel caso migliore dopo 3 diciamo cicli di estensione di espansione nel caso peggiore potrebbe anche essere visitato come forse nel nel caso del vostro collega l'ha visitato per ultimo perché lui ha fatto un percorso più lungo ma nessuno nessuno obbliga a fare un percorso più breve o più lungo nella visita capita come capita capita a seconda di quali nodi vengono inseriti prima di altri bene ok questa è una visita in ampiezza vabbè qui trovate un altro esempio nelle slide di un grafo tra l'altro non orientato in cui il vertice è b vabbè una possibile visita in ampiezza potrebbe essere a c poi da vado in d c l'ho già visitato poi per forza bisogna muoversi verso e e poi fg è un grafo proprio banale questo per quello non era giusto farvi questo esempio e dire che la questione era chiusa che questo forse è l'esempio proprio più facile di tutti quelli che abbiamo fatto sono sicuramente più complicati bene ora è il momento di dire qual è la complessità computazionale di questi di queste visite beh la complessità computazionale è bisogna visitare tutti i nodi una volta quindi sicuro 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 e odn ci sta poi però nel momento in cui noi diciamo per ciascun arco uv in g significa che dato un arco ci serve è un metodo che ci dà la lista degli archi incidenti quindi è proprio la procedura archi incidenti di un nodo che ci serve in questo caso e quante volte richiamiamo questa procedura quindi supponiamo che tau di v sia la complessità della procedura archi incidenti cioè il tempo per generare tutti i vicini di un dato nodo v ora questo tau di v noi non lo chiediamo una volta ma lo chiediamo per ciascuno dei nodi che stiamo visitando quindi per ciascuno dei nodi quindi la complessità è odn perché visitiamo ciascun nodo più la sommatoria per tutti i vertici di tau di v quindi la somma di tutti i tempi necessari per avere gli archi incidenti di ogni nodo del grafo questa è la formula generale ora a questo punto tau di v dipende dalla scelta della struttura dati quindi se la lista è di archi la lista di archi ci dà odm per avere la lista degli archi adiacenti degli archi incidenti quindi metterci m significa odm più la sommatoria per tutti i vertici di m ma tutti i vertici significa n quindi n per m quindi n più n per m ovviamente è m per n n si può eliminare perché abbiamo un n per m quindi la complessità nella lista di archi odm per n nella lista di adiacenza o di incidenza la procedura archi incidenti è odi grado di v e qui torna utile quello che abbiamo fatto ieri che la proprietà ci dice che la sommatoria di tutti i gradi di tutti i vertici in un grafo a che cosa è pari significa contare gli archi due volte l'abbiamo visto ieri c'è una proprietà dei grafi che ci dice che la sommatoria dei gradi dei vertici per tutti i vertici è proprio uguale a 2m quindi abbiamo odn più 2m ovviamente odm più n la matrice di adiacenza abbiamo che gli archi incidenti costano odn quindi odn più n per n quindi m4 di incidenza invece odn quindi di nuovo odn più n per m odm per n abbiamo odm per n odm più n odn quadro odm per n ovviamente la rappresentazione più conveniente è proprio questa quindi attenzione se stiamo facendo una visita in ampiezza in profondità è la stessa cosa vedremo anche lì c'è la richiesta degli archi incidenti se stiamo facendo una visita oppure stiamo eseguendo un algoritmo che si basa sulle visite e sono praticamente la stra grande maggioranza allora la struttura dati più conveniente è sicuramente la lista di adiacenza o di incidenza sono praticamente più o meno la stessa cosa e quindi le complessità di tutti i nostri algoritmi che vedremo da qui in seguito è almeno odm più n perché non può essere di meno perché almeno devo visitarli i nodi per fare le cose che dovrò fare sono basate sulle visite e gli algoritmi quindi più sotto di questo non ci posso andare se però scelgo una struttura dati non efficiente in questo caso potrei andare su complessità ben più elevate quindi assolutamente questa è la lista di questa è la struttura dati che io suggerisco quali sono i casi in cui questa struttura non è la migliore casi molto specifici in cui per esempio l'algoritmo si fonda sulla domanda sono adiacenti due vertici fa sempre questa domanda nell'algoritmo e in quel caso converrebbe per esempio utilizzare la matrice di adiacenza però quello quindi non è una visita è un algoritmo specifico che ha bisogno di quella operazione quindi d'ora in poi noi siccome i nostri algoritmi sono basati sulle visite utilizzeremo la lista di adiacenza diciamo è anche un po' più semplice da implementare rispetto alla lista di incidenza quindi anche nei vostri progetti potete già e comunque ve l'avevo anticipato pensare laddove c'è odore di grafi pensare a memorizzare i vostri oggetti e il vostro grafo tramite una lista di adiacenza quindi un vector di list di int che è praticamente quello che ho scritto prima nel notepad ripeto questa slide non la discutiamo e non la dovete fare così come la stessa cosa le proprietà dell'albero non ci interessano l'albero generato dalla visita non ci interessa ora la visita in profondità ebbè la visita in profondità sfrutta cosa la pila che è indotta automaticamente dalla ricossione quindi marca e visita al vertice v come prima per ogni arco incidente fai come prima quindi già questo ci fa capire che dovremmo usare una lista di adecenza se non è marcato l'albero se scusate se non è marcato il vertice visita a partire da quel vertice quindi vedete proprio la ricossione più pura che c'è visita un nodo e per ciascuno dei suoi vicini visita i suoi vicini quindi è un continuo di chiamare la visita cosa significa fare questo ragazzi significa che io sono per esempio nella prima iterazione di questo ciclo quindi sto considerando un particolare vicino e devo dire visita visitalo visitalo significa che a sua volta io chiederò i vicini di quel vicino e siccome chiamerò visita chiamerò i vicini di quel vicino di quel vicino quindi capite come questa cosa sta subito subito andando in profondità perché va a chiedersi ma chi sono i vicini del vicino del vicino del vicino come anche negli abili abbiamo fatto una visita in profondità e aveva questa particolare proprietà in quel caso era il figlio sinistro del sinistro del sinistro del sinistro in questo caso è il vicino del vicino del vicino del vicino quindi tradotto in pratica questa cosa cosa avviene qui magari facciamo un altro esempio cosa avviene cosa avviene qui in questo caso partendo da v5 in profondità significa che per ciascuno dei suoi vicini visitalo quindi parto con uno dei suoi vicini v6 e non ho ancora visitato gli altri quindi già ci fa capire che questa non è una visita in ampiezza perché vado nel suo vicino e per ciascuno dei suoi vicini lo devo visitare vado nel suo vicino e per ciascuno dei suoi vicini lo devo visitare per esempio io vado nel suo vicino in un altro vicino e in un altro vicino e in un altro vicino e in un altro vicino quando è che mi fermo? quando non ci sono più archi da esaminare quindi già questa procedura si vede si sta vedendo che va dritta dritta esplorando il grafo in profondità quindi se io lancio un worm un virus nella rete di calcolatori anziché infettare la rete locale sto andando molto probabilmente con grande velocità a infettare i computer che stanno dall'altra parte del mondo se sto facendo un'analisi sociale sto andando probabilmente a considerare delle relazioni molto lontane arriverò a Barack Obama cioè se io voglio per esempio scoprire stiamo su LinkedIn speriamo che ci sia Barack Obama su LinkedIn o su Facebook quanto disto da Barack Obama? se voglio scoprirlo in tempi brevi molto probabilmente la cosa migliore da fare è una visita in profondità perché se faccio una visita in ampiezza e voi a te rischio di visitare tutto il grafo invece una visita in profondità mi dà la speranza di arrivare a trovare quello che sto cercando in un tempo più breve se sono fortunato ovviamente quindi una possibile visita in profondità in questo caso è V5 V6 scusate V5 V6 V8 V4 V2 V6 V6 no non posso farlo perché l'ho già visitato allora ci sono altri archi se non ci sono altri archi la ricorsione si chiude quindi ritorna indietro vado in V4 avevo visitato V3 no quindi ci vado V3 avevo visitato V1 no ci vado V1 però V2 l'ho già visitato V5 l'ho già visitato quindi vado indietro ci sono altre cose da visitare no vado indietro ci sono altre cose no vado indietro ci sono altre cose non mi ricordo se sono passato da V6 sì c'è V7 quindi lo visito ci sono altre cose V3 l'ho già visitato no torno indietro ci sono altre cose no torno indietro ci sono altre cose non mi ricordo da dove ero passato no sì non ci sono altre cose quindi ritorno qui non ci sono altre cose quindi ritorno qui ok chiedo a voi di provare a fare una visita in profondità di questo grafo a partire sempre da C chi si sente di fare una visita in profondità a partire da C professore mi scusi una domanda sì ma in questo caso sì no dico nel caso generale sì si vanno sempre a visitare nodi che si sono già visitati no no bisogna evitarlo cioè allora uno comunque si chiede nell'algoritmo ci si chiede se non è marcato quindi comunque bisogna considerarlo quell'arco se non è marcato io lo visito ma se è marcato non innesco una ricorsione su quel vertice quindi nel caso nel caso precedente per intenderci se io supponiamo che io faccia questo ciclo qui perché poi può capitare io da V5 vado in V7 vado in V3 vado in V1 ora mi chiedo tra tutti i miei archi arco per arco qui V5 l'ho già marcato sì allora non innesco la ricorsione su V5 torno indietro V2 l'ho già marcato no quindi lo marco e innesco la ricorsione su V2 a questo punto da V2 vado in V6 V6 non avevo visitato perché avevo fatto questo percorso quindi lo marco e innesco la ricorsione l'ho visitato no quindi lo marco e innesco la ricorsione l'ho visitato sì quindi non innesco la ricorsione e torno indietro l'ho visitato no quindi innesco la ricorsione e vado avanti, l'ho visitato sì quindi torno indietro l'ho visitato no, quindi innesco la ricossione e vado avanti, l'ho visitato sì l'ho visitato, questo non ci posso andare scusate, quindi no, torno indietro quindi non mi ricordo se questo l'ho visitato, se l'ho visitato l'ho visitato e innesco la ricossione ma questo l'ho visitato, quindi torno indietro torno indietro, torno indietro non mi ricordo che percorso ho fatto, torno indietro non mi ricordo il percorso che ho fatto torno indietro, da qui da qui da qui è normale perché la ricorsione torna indietro quindi il codice tiene traccia certo noi umani che lo facciamo così a occhio è un po' complicato però comunque ci proviamo io vi aiuto anche a capire se vi siete dimenticati qualcosa l'importante è il ragionamento non è tanto oh mi sono dimenticato da dove ero e vabbè uno se lo scrive è per questo che queste cose si dovrebbero fare con un foglio di carta ok proviamo però un caso magari un po' più semplice un'altra domanda scusi quindi in questo caso non si va a cercare di marcare gli archi ma solo i nodi solo i nodi sì stiamo parlando di mercatura dei nodi il nostro scopo è quello di raggiungere i nodi della nostra rete di calcolatori la mercatura è sempre dei nodi non degli archi ragioneremo sugli archi quando parleremo dei cammini minimi per adesso il ragionamento è solo sui nodi ok e nel caso posso provare io a fare provi provi da C allora da C inizio andando su D sì poi visito G1 sì C già è visitato quindi ritorno su D sì visito B sì da B visito E sì visito G2 sì B già è visitato quindi torno su E torno su B torno su D e torno su C perfetto da C vado su S sì e visito A sì A non può visitare né C né D visto che sono già visitati quindi torno su S B già è stato visitato e quindi è finito e quindi torno su S e poi torno su C perfetto bravo perfetto complimenti questa è una visita in profondità di questo grafo che non è tra l'altro facilissimo quindi va bene vogliamo farne un altro una visita in profondità da uno mentre qui mentre qui prima la visita in ampiezza ci faceva vedere che effettivamente raggiungiamo subito vediamo qui una visita in profondità magari non da uno perché effettivamente non è connessa a questa parte da 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 nove una visita in profondità a partire da nove se la sente qualcun altro? vabbè la faccio io insomma se non se la sente nessuno posso fare sempre io va bene va bene da nove visito due da due posso visitare o tre o quattro visito tre poi visito quattro posso visitare solo quattro oppure due però da due ci arrivo da quattro visito cinque da cinque visito sei da sei non posso visitare nessuno quindi torno su cinque torno su quattro torno su tre torno su due da due potevo visitare anche quattro però ho già stato visitato quindi torno su nove da nove visito dieci dieci può visitare due e tre che sono già stati visitati quindi torno su nove da nove vado su otto otto può visitare due che è già stato visitato vado su sette da sette posso visitare sei che è già stato visitato quindi torno su otto vado su uno che non è stato visitato però tutti i nodi collegati ad uno sono stati visitati quindi torno su otto e poi torno su nove ed è finito perfetto bravo complimenti questa è una visita in profondità di un grafo non semplicissimo quindi ottimo ovviamente la visita dipende dal nodo scelto una visita in profondità a partire da nove una possibile visita è quella che il vostro collega vi ha annunciato ce ne sono altre ovviamente dipende dalla scelta dell'ordine ma se io avessi detto una visita in profondità a partire da uno come prima non è che cambia molto così come prima non arrivavo a questi nodi nemmeno adesso ci arrivo non è perché mi ha visita in profondità ci arriva prima le cose ma se non ci si può arrivare non ci si può arrivare quindi comunque la visita di un grafo non garantisce se il grafo è appunto se non è connesso per definizione non garantisce che qualunque punto di partenza mi consente di visitare tutto il grafo solo se il grafo è connesso allora è garantito che tutto il grafo verrà visitato bene l'esempio fatto qui sulle slide insomma ripeto non lo faccio nemmeno perché è troppo più semplice è talmente semplice che secondo me si impara anche male su questo esempio quindi vi invito quando studierete questa parte a rivedervi questa registrazione con gli esempi che abbiamo fatto che sono molto più didatticamente validi rispetto all'esempio che c'è su questo slide perché sì vabbè rispetto a B una visita in profondità una possibile visita potrebbe essere C F G torno indietro D e poi basta perché l'ho già visitato quindi no non è basta scusate D e poi A vabbè ma un grafo insomma molto connesso con pochi nodi non è troppo semplice insomma ok non ci interessa le proprietà dell'albero e a questo punto ci sono una serie di problemi che già si possono svolgere solo con le conoscenze che ci siamo appena appena detti ce ne sono proprio tanti guardate quanti ce ne sono il problema di di analisi sociale e c'è anche io ci tengo sempre a mettere un problema se il problema che è capitato al mio esame di strutture dati all'università ed un problema che si risolve con la matrice di recenza lo scrive anche la traccia ed è un esempio appunto di come in alcuni casi convenga più una struttura come la matrice di recenza e non la lista di recenza quindi non è sempre vero che le liste di recenza sono migliori degli altri in alcuni casi sì praticamente in quasi tutti però ci sono delle eccezioni come questo problema ma ve lo dice proprio il problema quindi vabbè non discuto i problemi perché se avete problemi di comprensione della traccia me li potete chiedere e lo svolgimento è parte dell'esame quindi non c'è troppo nulla che io possa darvi come suggerimento che fa parte dell'esame lo svolgimento di questi problemi ok nel tempo che ci rimane è veramente poco il tempo che ci rimane diciamo diamo solo qualche breve cenno ai cammini minimi però la volta prossima noi dovremmo proprio andare a parlare di algoritmi che calcolano i cammini minimi diamo solo qualche cenno negli ultimi minuti di questa lezione allora i cammini minimi ormai ve l'ho detto ridetto e ve lo ridico sono problemi attuali che è un problema attuale che viene praticamente modellato in tantissimi contesti ovvero il problema di trovare il cammino più breve in termini chilometrici o in termini temporali o in termini anche di costo c'è chi magari è un po' più ticchio e dice a me non me ne frega niente del tempo che ci metto del traffico del chilometraggio a me interessa il costo quindi la benzina quindi significa che magari una strada più lunga beh non è detto che consumi più benzina perché magari una strada più breve passa attraverso la rocca roccata sulla cima di una montagna e a me è capitato che l'ambicatore mi dicesse prendi questa stradina sì sì come no è più breve però doveva poi passare praticamente fare una salita a pendenza del 10% sia il tempo di percorrenza sia i costi sono ovviamente più elevati quindi non è banale dire cosa conviene ora questo è il caso del navigatore satellitare quindi noi comunque abbiamo dei grafi pesati perché per poter dire minimi ci serve una quantizzazione ci serve dire quanto pesa quanto costa quell'arco nel caso dei navigatori satellitari gli archi sono le strade gli incroci gli snodi sono i vertici o anche i numeri civici per esempio potrebbero essere anzi sono i vertici del grafo se vogliamo arrivare a quel numero civico e i pesi degli archi sono una combinazione di tante cose chilometraggio tempo di percorrenza costo del pedaggio non voglio pagare l'autostrada voglio fare la casilina per esempio se voglio andare a Roccasecca ci potrei andare tranquillamente con l'autostrada magari impiego anche un minuto in meno però quell'un minuto in meno lo pago con più chilometri di percorrenza perché devo fare un giro poi certo in autostrada vado sparato a 137 per non innescare il certitutor quindi ci metto di meno effettivamente magari un minuto in meno però costa di più la benzina e costa di più il pedaggio quindi comunque non è banale bisogna decidere anche noi utenti che diciamo al nostro navigatore cosa ci interessa ci interessa il tempo il costo il chilometraggio un po' tutto quanto ma questi problemi si ritrovano anche nell'istradamento dei pacchetti come vi dicevo prima non è detto che convenga ad un pacchetto IP viaggiare da Roma a Cassino per via diretta tramite i cavi che stanno sotto terra che passano probabilmente lungo la casilina tra l'altro magari converrebbe andare in Cina e poi essere imbalzati perché magari il canale di comunicazione cioè il cavo che sta sotto terra lungo la casilina magari in questo momento con tutta questa didattica a distanza è saturo per qualche motivo e conviene passare da un'altra parte quindi il cammino minimo è un qualcosa che conviene anzi converrà essere calcolato in real time perché è un qualcosa che ha a che fare con dei grafi che cambiano nel tempo il navigatore satellitare pure è così perché qual è la variabile che cambia è il traffico quindi se io sto sul raccordo anulare in quel momento magari se sto alle 9 di mattina è l'orario proprio peggiore per esperienza per stare nel raccordo anulare sicuro sicuro sto imbottigliato nel traffico se invece sto il 15 agosto nel raccordo anulare a luna di pomeriggio è vuoto proprio vuoto vuoto ci posso proprio correre senza problemi quindi il traffico è una variabile che rende il grafo praticamente dinamico cioè i pesi cambiano nel tempo e quindi anche il nostro algoritmo deve essere aggiornato deve girare in un tempo davvero breve diciamo real time ma comunque vicino al real time anche in internet così se un canale si satura io non voglio non è che possiamo aspettare oh scusa aspettiamo 10 minuti perché il server deve ricalcolare i cammini più brevi per instradare i pacchetti no deve essere tutto fatto in tempo in tempo reale così come magari il robot che risolveva il cubo di rubik o altri problemi comunque in generale di ottimizzazione ora cos'è un cammino un cammino l'abbiamo già detto ieri un cammino è una sequenza di vertici che parte da una partenza vertice di partenza e arriva un vertice di arrivo ora se il grafo è anche pesato quindi se abbiamo dei pesi dei numeri sugli archi allora possiamo definire che quel cammino ha un certo costo facendo semplicemente la somma dei pesi degli archi che incontriamo lungo il cammino quindi il cammino che va per esempio il cammino 1 2 3 ha un costo pari a 10 più 5 quindi 15 il cammino che va da 9 fino a 5 passando da 8 e 1 costa 20 più 5 25 più 20 45 quindi la somma dei costi lungo il cammino un cammino che è formato solo da un vertice per convenienza diciamo che ha costo 0 perché conviene appunto stare lì non fare niente quindi costo 0 indichiamo con pi greco tra x e y il cammino tra due vertici x e y che devono essere connessi perché se non lo sono non c'è questo cammino e indichiamo con w di pi greco il peso del cammino che c'è tra quei vertici ok ora però che significa il peso del cammino ci sono più di un cammino cioè anche qui nell'esempio per andare da 9 a 5 io potrei passare da 8 a 1 e andare in 4 e poi in 5 per esempio facendo così impiegherei vediamo 20 più 5 più 20 fa 45 20 più 5 più 20 più 10 fa 25 più 30 fa 55 20 più 20 passando da 2 siamo a 40 più 10 50 più 10 60 quindi vedete 45 60 sono numeri diversi quindi per andare da una partenza ad un arrivo così come anche nella mappa stradale ci sono tante strade a noi interessa di tutte queste strade quella più breve quindi il cammino minimo è di tutti i cammini è quello che minimizza il costo quindi è il cammino che minimizza appunto quindi il cammino minimo che indichiamo con più greco star è il cammino di costo minimo tra tutti i possibili cammini vabbè il tempo è finito domani domani la prossima settimana riprendiamo da qui con le proprietà dei cammini con gli algoritmi dei cammini e cominceremo a parlare dei primi algoritmi per cancolare questi cammini minimi che sono poi gli algoritmi utilizzati nelle reti dei calcolatori nei navigatori eccetera la lezione termina qui